Amici di TecAndroid.it, benvenuti. Oggi andiamo a scoprire insieme un nuovo smartphone, un nuovo smartphone prodotto da Olimmobile che abbiamo visto a Milano durante la presentazione ufficiale ed è precisamente l'Olimmobile Arena, un dispositivo molto molto interessante perché ha una batteria da 6050 mAh, quindi è davvero fantastico. Io non l'ho ancora aperto, sono davvero curioso. Andiamo a scoprirlo insieme in questo video unboxing. Allora, andiamo subito a parlare della confezione, confezione molto semplice ma che non è quella definitiva. Infatti questo è un prodotto di test che ci è stato inviato in anteprima proprio per valutare le caratteristiche tecniche. Sicuramente la confezione sarà molto molto simile e varierà solamente per la grafica anteriore, laterale e posteriore, dove verrà forse inserito proprio una piccola anteprima di Olimmobile Arena. Andiamo subito ad aprire la confezione, cosa troviamo all'interno? Troviamo lo smartphone, smartphone che ha una pellicola protettiva che indica le principali caratteristiche del dispositivo ma che andremo ad analizzare tra poco. Piccola protezione, un piccolo sticker dove sono indicati i codici email e il codice a barre. Poi sotto alla confezione troviamo un caricatore da rete con tecnologia fast charge, quindi permette di caricare velocemente il vostro dispositivo. Troviamo poi il cavetto micro USB, il cavo OTG che serve sia per connettere un USB al device che utilizzare Olimmobile Arena proprio per caricare un altro smartphone. Grazie alla batteria da 650 mAh, cioè collegate questo al dispositivo utilizzando il cavo di un altro smartphone potete ricaricare anche quello. Poi troviamo i cavi, cioè l'auricolare Inear, eccolo qui, con jack da 3,5 e molto molto elegante. Lo andremo a testare durante la recensione. Prendiamo un attimo il nostro Olimmobile Arena e proviamo ad accenderlo proprio per scoprire insieme le prime impressioni su questo dispositivo. Intanto che si accende andiamo ad analizzare la parte frontale dove troviamo una fotocamera di 5 megapixel, i tasti del volume sulla parte destra, il tasto di accensione, quello per scattare fotografia o registrare e tre tasti soft touch. Sto dicendo le cose molto molto rapido perché le andremo ad analizzare nella recensione parte posteriore della fotocamera da 13 megapixel, il sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo, non so se riuscite a vederlo, e delle casse audio poste nella parte bassa. Ok, il resto lo andremo ad analizzare successivamente. Come detto, il dispositivo monta Android, ha un processore octa-core da 1.3 GHz, è precisamente il Mediatek MTK6753 con architettura a 64 bit, ha 3 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria ROM. Ok, per oggi è tutto, lo andremo ad analizzare e recensire nei prossimi giorni, se siete curiosi iscrivetevi al nostro canale YouTube e continuateci a seguire sul nostro sito www.tecandroid.it. Grazie a tutti per averci seguito.